È stato colpito con una misura di prevenzione molto importante, un soggetto che è stato da tempo all'onore delle cronache giudiziarie nel Nese, nel Neofortese in particolare. Un soggetto che ha avuto delle attenzioni in passato per fatti di usura, ma anche perché, per esempio, aveva rubato dei dati personali dentro un negozio di telefonia, intestava delle schede a soggetti inconsapevoli che poi dava anche a pregiudicati. Quindi un soggetto che ha un passato criminale importante, che è stato condannato, ripeto, per usura, è stato condannato per truffa e che si è arricchito con una condotta di vita assolutamente in spregio con tutte le regole possibili e immaginabili. Oggi blocchiamo il patrimonio di questo personaggio, che abbiamo quantificato in 7 milioni e mezzo, ma è dato da degli grossi asset anche di tipo commerciale. Un bar all'interno dell'outlet di Assoro, dei terreni nella zona di Acereale, molto vicini allo svincolo dell'autostrada, quindi di valore commerciale molto elevato. Una lussosissima villa nel comune di Nissoria, dove lui abita. E poi tutta una serie di partecipazioni societarie, sia formali ma anche e soprattutto partecipazioni occulte in altre società intestate a terzi, ma di cui lui è stato finanziatore, sfruttando proprio questi grossi flussi di liquidità che gli derivano proprio dalle sue attività illecite. Quindi oggi cauteliamo questo patrimonio in attesa che poi il Tribunale decida sull'applicazione della misura di prevenzione a carico del soggetto. E ci auguriamo che tutte le vittime di usura a cui lui ha nel tempo vessato colgano quest'occasione per farsi avanti, per venire un po' allo scoperto e aiutarci a bloccare questi asset patrimoniali importanti, che nell'ennese non sono costata poco per i numeri che abbiamo.